Potente appara ragazzi, qua Vaxlogy, mi è caldo, oggi sono Ansole e sono qui a presentare questo mio nuovo video che ragazzi è un video d'aggiornamento perché infatti in questo video dirò un paio di cose veramente importanti la prima è che innanzitutto sono tornato, oggi 27 luglio sono tornato e sono qui appunto per portarvi dei nuovi video solamente vi dico già che c'è un piccolo problema perché infatti in questi giorni dovrò farvi tanti video perché io tra 5 giorni all'incirca ripartirò per una settimana, io sono tipo un vagabondo, sto sempre in giro e quindi appunto ve lo dico perché mi raccomando vi dovete passare dalla pagina Facebook dato che lì magari farò dei pimpare come anche chiederò o meglio cercherò degli sfinanti per dei vari wager match quindi passate dalla pagina Facebook comunque ragazzi il topic principale di questo video non era appunto parlare appunto del mio ulteriore assentamento se possiamo definirlo, ma era perché oggi quando sono tornato ho visto il numero degli iscritti e ragazzi siamo arrivati a 71.000 iscritti e quindi vi volevo ringraziare anzi no vi volevo stra ringraziare per questo fantastico traguardo se adesso voi mi state chiedendo Axel ma perché hai gli occhiai ma nemmeno perché hai le borde sotto gli occhi io vi dico questa cosa, io sotto gli occhi ho addirittura le valigie perché infatti io sono tornato stamattina alle ore 9 italiane che erano appunto per il luogo in cui stavano le 3 quindi io non ho dormito niente in aero, non ho dormito niente da stamattina quindi mega asterone ed è per questo motivo che mi state vedendo adesso con gli occhiai comunque ragazzi avevo anche un altro po' di cose da dirvi ma ovviamente me le scordo sempre però mi è venuto in mente un'altra ragazzi non fate caso a ciò che sto dicendo perché devo un attimo riprendere a fare i video questo qua è appunto una delle prime volte che rinizio vi volevo un attimo mostrare alcuni dei miei acquisti perché infatti due influiranno la grafica della mia facecam perché infatti cosa ho preso? ho preso due nuovi poster sempre relativi al magico joker e non sapevo dove metterli, se metterli lì oppure togliere questi due e metterli lì oppure metterli sul soffitto, voi cosa fareste? fatemi sapere in un commento se fondamentalmente magari voi ora vi state chiedendo ma perché non utilizzi la gopro? perché infatti ragazzi io come potete ben vedere ho preso il bel cavalletto della gopro e tutto il tre piedi, però c'è un problema, ho sempre questa scatola che non va bene no, perché infatti questa qua è la scatola subacqua, isola tutto, proprio tutto e quindi isola anche il microfono e non si sente niente dato che non avevo appunto voglia di leggere commenti del tipo ihihi non si sente niente, ho detto ma facciamo un'altra volta il video con la gopro quindi aspettate che io prenda appunto la sua cover originale se fosse, non neanche la sua cover normale per appunto iniziare a fare i video con la gopro altre cose da dirvi, ah sì, l'ultima cosa anche cos'è è che ragazzi non so che video appunto farvi perché in queste due settimane ho visto che sono uscite moltissime carte diverse intanto facciamo una panoramica della mia stanza sono uscite moltissime carte diverse e quindi vi volevo chiedere una piccola cosa voi vorreste io Pink Palazzi qualche giocatore? se sì, scrivetemi un commento se no scrivetemi che video vorreste vedere appunto come prossimo video così che appunto io mi possa riuscire a portare avanti il più possibile quindi ragazzi detto questo non mi sembra di avere altre cose da dire vi volevo come sempre, o meglio come ho fatto prima ringraziare per i grandissimi 70.000 iscritti siete veramente fantastici quindi detto questo io vi saluto e vi dico ah no domani un nuovo video eh, state pronti e vi dico potete, pa, al centro del prossimo video bolla!